e farlo impegnare con te. In questo video voglio spiegarti come può indurre, diciamo, un uomo a prendersi un impegno con te. Prima però iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco e seguimi sul canale ovviamente, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E adesso veniamo al tema. Ti ricordo che iscriviti anche agli altri miei canali YouTube, crescita personale con Massimo Terramasco, felicità benessere, amore autostima. Ma adesso veniamo al tema come spingere un uomo a impegnarsi con te. Perché normalmente gli uomini non è che hanno molta voglia di impegnarsi e per impegnarsi bisogna generare innamoramento. Se non riesci a produrre innamoramento sicuramente gli uomini non si impegneranno con te. E quindi come funziona il processo di innamoramento da parte di un uomo? Beh, bisogna tenere presente che l'innamoramento, l'amore in generale, l'amore di coppia, perché l'amore in generale è un desiderare che l'altra persona sia felice, però l'amore è un sentimento molto volubile da un certo punto di vista e necessita comunque di affinità e di interesse reciproco. Per cui la freccia di cupido, diciamo, scocca anche quando meno te l'aspetti se si riescono a gestire le emozioni della persona. L'innamoramento sicuramente è un processo che viene innescato poi da trasmettitori, diciamo, da neurotrasmettitori, la serotonina, la dopamina, insomma, l'ossitocina. E questo noi possiamo però far innamorare qualcuno, diciamo, stimolando delle emozioni. Poi fondamentalmente bisogna stimolare le emozioni. E come fare però a far sì che un uomo si impegni? Perché? Perché un uomo dovrebbe proprio scegliere te. Perché un uomo dovrebbe proprio impegnarsi con te? Ad esempio, rispetto a tante donne che ci sono, perché dovrebbero impegnarsi con te? Quindi devi uscire un po' dalle regole, no? Perché ci sono delle regole che devi tenere presenti in amore come donna, però le regole vanno anche trasgredite. Ad esempio, dimenticati i concetti come se mi piace mi chiamerà per primo. Oppure deve essere l'uomo a fare il primo passo. Di fatto sono idee abbastanza retrograde, se vogliamo, che però puoi, diciamo, utilizzare essere un po' più intraprendente. Ovviamente la donna non deve darla, diciamo così, ma può dare degli stimoli. Perché gli stimoli è fondamentale per riuscire a coinvolgere. Perché se tu impari a dare degli stimoli riesci a far sì che lui si spinga a innamorarsi e a legarsi con te. Tieni presente che un uomo si innamora soltanto se fa un investimento nei tuoi confronti. Non esiste innamoramento, non esiste impegno se non c'è un investimento. Cioè uno che ti dà solo appuntamento al parcheggio del cimitero, uno che ti dà soltanto appuntamento come dire per ficcarlo e basta, non si impegnerà mai con te. Quindi tu devi dare degli stimoli per prima cosa, in modo tale da intanto stimolare il desiderio. Devi creare, avere la certezza dentro la capacità di sedura. Perché se hai identificato questa persona come l'uomo dei tuoi sogni, l'uomo della tua vita, tu non devi, come dire, entrare subito in fibrillazione, entrare subito a non ci riesco. Perché tieni presente che le credenze sono fondamentali. Quindi quello che devi imparare a fare subito è lavorare su te stessa, cioè sviluppare le credenze di meritare l'amore. Perché purtroppo la realtà esterna che noi andiamo a sperimentare è il prodotto della realtà interna. Quindi se tu internamente pensi di essere una fallita, pensi di non riuscire mai a far innamorare la persona giusta, beh questo andrai a, stimolare, andrai ad attirare fondamentalmente. Tieni presente che un uomo si innamora delle azioni. Quindi l'aggancio avviene attraverso degli stimoli, soprattutto degli stimoli visivi. Quindi quando entri in, diciamo, quando entri in contatto con un uomo devi subito farti notare e devi subito flasharlo. Cosa vuol dire flasharlo? Flasharlo vuol dire che devi dargli degli stimoli, stimoli visivi. Stimoli visivi sono legati ad esempio al tipo di look, di abbigliamento, di immagine che ti crei. Devi farli in modo da non innescare però dei meccanismi, da non innescare dei meccanismi di difesa, come ad esempio meccanismi di squalifica. Perché è ovvio che se un uomo ti percepisce come un po' immignottita, sicuramente lo attrarai, perché poi l'uomo è attratto visivamente. Ma non riuscirai a dargli, diciamo, innescherai meccanismi di difesa. Per cui non ti vedrà mai e poi mai come la donna con la quale costruire una relazione, con la quale mette la sua famiglia non ti vedrà mai come la madre dei suoi futuri figli. Anzi, dopo se ne andrà pure. Quindi essere immignottita non va bene. Neanche accettare subito inviti al parcheggio del cimitero. Tu quando incontri un uomo devi stimolarlo attraverso l'abbigliamento, attraverso la comunicazione non verbale, che è fatta da aspetti visivi come l'abbigliamento, ma è fatta anche da la cinesica, la tua gestualità, che deve essere una gestualità molto sciolta, molto materna. È fatta dalla prossemica, dalla gestione degli spazi, dalla paralinguistica, la gestione dei tratti sopra e sotto segamentali della voce. Quindi quello che devi imparare a fare è a gestire, ad esempio, la tonalità. È fatto dalla cinesica. Nella cinesica abbiamo l'icontata, anche il contatto oculare. Insomma, tutta una serie di stimoli che tu puoi dare, anche stimoli cenestesici legati proprio al contatto fisico. Una volta che hai dato questi stimoli, una volta che sei riuscito a stimolare, una volta che sei riuscito a dare questi stimoli, quello che tu puoi fare è quello di attendere che lui in qualche modo faccia il primo passo. Ovviamente gli stimoli, se due persone sono molto distanti, tanto vale chiudere la relazione subito, perché le relazioni a distanza, diciamo, dipende dal tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo è meramente trasgressivo, sì, ma altrimenti se c'è una grossa distanza, vatti a trovare uno sotto casa e non rompere i maroni, perché poi le relazioni a distanza possono durare nel tempo, proprio perché sono a distanza. Ma proprio per il fatto che sono a distanza non porteranno mai ad avere una relazione, diciamo, come possiamo dire, non porteranno mai ad avere una relazione tra due persone di costruzione di un nucleo familiare. Beh, a meno che uno dei due non si trasferisca dall'altra parte. Ma le relazioni a distanza sono relazioni puramente trasgressive, da viversi eventualmente così come trasgressione, ma crearsi aspettative su uno che abita a più di due ore o tre di distanza da te non ha proprio nessun senso. Poi, per carità, ci sono relazioni a distanza che diventano anche matrimonio se uno vuole trasferirsi dall'altra parte. Per carità, tutto è possibile. Ma qui andiamo per statistica, no? Se la relazione a distanza non decolla in tempi molto brevi, rischi di perdere la cosa più importante che hai nella tua vita. E la cosa più importante che hai è il tuo tempo, soprattutto se hai una certa età, no? Perché un conto è viversi una relazione a distanza a vent'anni in cui può anche essere piacevole viversi la relazione a distanza. Ma se tu inizi a, che ne so, a 40 anni a viverti una relazione a distanza dove tu magari hai già un posto consolidato, un lavoro consolidato, hai già un lavoro consolidato in una situazione, in una città. Quell'altro ha un suo lavoro consolidato, una casa, qualcosa, consolidata nella sua città, 40-50 anni. Se te la vivi come trasgressione, bene. Ma se speri di poter costruire poi un nucleo familiare, diventa veramente molto difficile. Per carità, e quello che rischi di perdere è il tuo tempo. E il tempo è il bene più prezioso che noi abbiamo. Quindi perdere tempo non va mai bene. Vivitela come trasgressione, vivitela come cosa, ma non create aspettative. A meno che non ci sia proprio la possibilità di uno dei due di trasferirsi. Ma questo può andar bene a 20 anni. A 20 anni una persona che deve iniziare una sua relazione, una sua vita, tranquillamente si sposta. Ma a 40-50 diventa tutto più difficile. Per cui il mio suggerimento è, se tu vuoi un nucleo familiare, se tu vuoi una relazione ravvicinata, non partire in salita. Tanto, come dire, in ogni città ci sono persone che tu ti puoi trovare. Inutile che vai a trovarti la persona sul cucuzzolo della montagna che sta dall'altra parte. È molto meglio trovarti quello sotto casa, quello sotto casa, o perlomeno nella tua città, insomma. Però poi devi comunque spingere la persona a fare delle, diciamo, a prendersi degli impegni. Ovviamente una volta che tu hai dato degli stimoli a quest'uomo, una volta che tu hai dato degli stimoli, una volta che tu hai dato delle tensioni emozionali, devi tirarti un po' indietro. Perché poi è la negazione che fa innamorare. Cioè è un po' il dare e togliere, il dare e togliere, il dare e togliere. Queste sono cose fondamentali. Poter dare e poter togliere sono cose fondamentali. Erroneamente crediamo, molte persone credono che un uomo provi più interesse quando una donna lo chiama di continuo. Invece non è così. Un uomo non ha bisogno per innamorarsi di una donna che gli fa 500 telefonate al giorno, che gli manda 500 messaggi al giorno. Puoi farlo in una fase iniziale, ma poi devi togliere comunque, devi togliere. E' nel togliere che farai vivere un senso di vuoto. E quando si manifesta questo senso di vuoto, l'uomo tende ad innamorarsi, tende a volersi impegnare con te. Perché tende a volersi impegnare con te? Perché tende a, diciamo, a sentire una sorta di attrazione, cerca di compensare. Spesso l'amore, spesso l'errore che molte donne commettono è quello di, diciamo poi, di transennarsi, tra virgolette, dietro il sentimento della gelosia, pensando che la gelosia sia un qualcosa di positivo. In realtà la gelosia non è mai un qualcosa di positivo. La gelosia è un abbagliare di cani che attira i ladri. Ecco, questa è un'altra cosa che devi fare. Devi cercare di eliminare per sempre la gelosia. Prendi poi alcune cose però devi farle su di te soprattutto. Alcune cose devi curarle. Cura il tuo sorriso. A nessuno piacciono le persone incazzate depresse, le donne incazzate depresse. Quando si è incoperto in un uomo, cerca di essere allegra, sorridente, in modo tale da creare degli ancoraggi emozionali positivi. Le persone depresse e tristi non attirano. Cura il tuo corpo, cura il tuo benessere. Questo lo dico anche in altri video. Cerca di curare, di essere la migliore versione di te stessa. Cura anche la tua mente, non so, attraverso lo yoga, attraverso tecniche di rilassamento. È molto importante anche questo essere tranquilla. E diciamo anche lo sguardo. Saper gestire lo sguardo è molto importante per, diciamo, per coinvolgere una persona. Fondamentale è che sei una donna indipendente. Perché, diciamo, non siamo più nell'ottocento, nel novecento, in cui le donne comunque dovevano essere dipendenti di un uomo. Ora le donne che attraggono, le donne che si educano, sono quelle che sono indipendenti e che hanno degli interessi personali. Quindi se stai facendo un corso, se stai seguendo una tua cosa, non devi assolutamente lasciare i tuoi impegni, non devi assolutamente lasciare le cose che stai facendo, le tue passioni per quest'uomo. Assolutamente no. Certo, ci devono anche essere delle cose in comune, ovviamente. Però fondamentalmente tu devi attrarre. Quindi appare al meglio e cura la tua immagine. Non avere fretta, non fare tutto subito. Anzi, cerchi di utilizzare la psicologia inversa. Cerca di mettere dei freni, cerca di rallentare. Lascia gli suoi spazi, perché più gli lasci spazi, più cerchi di allontanarlo, più lui si avvicinerà. E più si avvicinerà, più investirà su di te. Ecco, queste sono le cose fondamentali che tu devi riuscire a fare. Se riesci ad agire in questo modo, vedrai che riuscirai a farli innamorare, riuscirai a ottenere dei risultati. Se lui ti chiede di rinunciare alle tue passioni, per te li fai così. Perché tu non devi assolutamente rinunciare a nulla. Nel momento in cui tu rinunci a qualcosa, sei già panata, sei già panata. Anzi, se lui ti chiede di rinunciare alle tue passioni, tu intensifica ancora di più le tue passioni. Fai esattamente, prenditi quello di te. E se poi lui, come dire, da un certo punto di vista, si vuole allontanare fuori dai maroni, ne troverai in alto. Perché che te ne fai di una persona che ti vuole condizionare, che vuole, diciamo, decidere quello che tu vuoi fare e quello che tu non vuoi fare? Ecco, segui questa indicazione e vedrai che lo farai innamorare. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscriviti al canale YouTube, iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco perché troverai delle cose molto interessanti. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!